A Caltanissetta alle ore 9.30 circa, due individui a bordo di uno scooter hanno affiancato una donna di 40 anni che transitava a piedi in via Montessori, proveniente da via De Cosme, in direzione della scuola Caponnetto, strappandole la borsa dalle mani e successivamente dileguandosi verso il quartiere Santa Petronilla. La donna, sorpresa alle spalle, dava immediatamente l'allarme al numero di emergenza 113. A sopraggiungere dei poliziotti della sezione volanti, la vittima non riusciva a fornire una descrizione dettagliata degli scippatori, riferendo soltanto che viaggiavano a bordo di uno scooter di colore nero e senza casco. La borsa asportata conteneva un tablet, la somma di 200 euro in contanti ed effetti personali. Indagini in corso.